Ciao a tutti, sono Nico. Io sono Malik. E questo è AnimKicks. Oggi siamo tornati per portarvi una scarpa classica, che però è stata resa unica dal nostro amico 26Carto. Io ho già visto questa scarpa perché il nostro amico ce l'ha spendita al mio indirizzo e quindi Malik non l'ha ancora vista. E volevamo fare una reazione live, almeno per la reazione di Malik, per farvi vedere quanto siamo veramente carichi di avere questa nostra sneaker. Non vedo l'ora di andare ad unboxare questa scarpa. Ragazzi, sono veramente euforico. Quindi adesso lo faccio. Andiamo. Ma adesso, queste scarpe dobbiamo farvele vedere un po' meglio. Per questa sneaker dobbiamo ringraziare il nostro amico 26Custom, o 26Custom, ma forse è meglio il 26. E la sua patina Instagram sarà ovviamente in descrizione in questo video. E quindi andateci a fare un salto perché è un ragazzo veramente bravo. E durante questo video faremo vedere anche dei piccoli video dove lui spiegherà, o meglio, farà vedere come ha realizzato questo custom. La nostra idea iniziale era infatti di fare una scarpa a testa, anche se forse avremmo dovuto fare io con la destra e le mani con la sinistra perché di solito le teniamo così. Quando siamo stati contattati, ormai qualche mese fa, da questo ragazzo, ci siamo messi subito su un AKD per poter personalizzare, vedere quale abbinamento di colori poteva stare bene insieme. E naturalmente fare due scarpe che non fossero totalmente diverse, ma che ci stessero diciamo abbastanza bene insieme. Sì, infatti la nostra idea era di creare due scarpe diverse che comunque rispecchiassero i nostri gusti, ma comunque poter essere indossate come una sola sneaker, come un solo paio di sneaker. E secondo me ci siamo riusciti abbastanza bene e 26 Custom ci è riuscita abbastanza bene. E devo fare ancora una volta i complimenti a 26 Custom perché noi all'inizio avevamo pensato a una normale colori di un Air Force One e non avevamo idea che lui potesse realizzare sia il nostro logo in maniera veramente incredibile, sia alcune scritte NMK che sì, magari non sono niente di speciale ma fanno veramente il loro effetto, e poi sulla suola. Non so se sia dalla parte giusta. Lo faccio giusto? Eh sì, no. Partiamo dalla mia sneaker e dalla tua maglia di questa, che ha come principale colore, forse il colore che mi piace di più su una sneaker, ovvero il nero. Ho però comunque voluto lasciare sia gli swoosh bianchi che anche questa parte anteriore bianca e naturalmente la linguetta, perché credo che risaltino molto su questo sfondo nero e fa veramente un bel effetto. E l'altro unico colore utilizzato per questa sneaker è il secondo mio preferito, ovvero il rosso, per questo tab qui dietro con questa scritta Nike Air in nero che ci sta veramente benissimo. Come ho detto prima, vi sono piccoli dettagli, infatti nella parte anteriore abbiamo qua la scritta NMK, che naturalmente vorrà dire NMKX, nella parte posteriore sotto il tab abbiamo ancora queste tre lettere e il dettaglio veramente più figo che è avvenuto veramente benissimo è questo nostro logo che per la mia sneaker è speculare ed è bianco su nero e è veramente fantastico. Un altro dettaglio, ovvero altri piccoli dettagli che non si vedono all'inizio, sono infatti all'interno e infatti sulla soletta abbiamo questi schizzi di vernice con anche la firma 26 Costume e NMKX. Ormai è diventato il mio mantra, lo sapete benissimo tutti, io amo il rosso, però sarebbe stato forse troppo scontato fare una sneaker a base rossa, infatti più che mettere molto rosso nella mia sneaker volevo che il rosso risaltasse e secondo me ci sono riuscito abbastanza bene, lasciando comunque l'Air Force One bianco originale il più possibile, con però questo swoosh rosso e la parte anteriore rossa che secondo me ha risaltato veramente molto. Poi stesso colore di quella di Nico, Lil Tab, rosso con il dettaglio Nike Air in nero e devo dire che il dettaglio è anche questo incredibile perché non c'è neanche una sbavatura, è perfetto, è questo incredibile. E poi anche la linguetta rossa con i lacci neri che l'unica parte nera veramente è con la scritta Nike Air della mia scarpa e anche questo secondo me risalta moltissimo. Ha ancora una volta il logo, in questo caso normale, dalla parte giusta nei nostri colori classici e è pazzesco, questo logo è pazzesco. Poi naturalmente come sulla sua sneaker vi sono le scritte NMKX sul tallone, NMKX sulla parte anteriore, la soletta con gli schizzi di vernice e nella mia sneaker vi è questo tag di 26 Custom che ci ringrazia e ci augura buona fortuna e noi facciamo lo stesso con lui. Adesso passiamo all'ultima parte customizzata di questa sneaker perché l'intersuola è stata resa bianca, o meglio lasciata bianca di proposito da tutti e due perché non volevamo di certo rovinare una parte di una sneaker così classica che per noi rappresenta l'Air Force One e quindi, ora la giro nel verso giusto, passiamo alla suola e ha questa scritta a tutta lunghezza NMKX, sempre bianca su base nera e anche qui, non lo so, un altro tocco che non mi sarei mai aspettato e quando l'ho visto fuori dalla box ho detto Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Davvero ottimo lavoro! Naturalmente queste sneaker non saranno indossate da nessuno dei due, forse un breve onfit dopo per farvi vedere com'è, anzi l'onfit è doveroso però comunque si può sentire anche con mano che la vernice utilizzata è veramente resistente e anche se noi le metteremo in vetrinetta, devo dire che se ci fosse stata la possibilità di indossarle non credo che la vernice qui sotto si sarebbe rovinata, anzi avrebbe resistito bene e anche qui è un tocco di qualità e vi fa capire il lavoro di questo ragazzo Quindi anche la suola riprende i colori che abbiamo utilizzato principalmente sulla tua maia però allo stesso tempo mantiene la stessa scritta, lo stesso schema perché rimane quest'idea di voler dare una continuità a queste due scarpe E adesso vi faremo vedere dei piccoli video dove Nicolas ha ripreso come lui ha realizzato questo costume e dopo naturalmente il doveroso onfit Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti